Amici di Medical Fitness, buongiorno. L'osteoporosi non è soltanto una questione di MOC, non è soltanto un valore che leggiamo sul nostro foglio di analisi, non è solo questione di DEXA. Non si tratta soltanto di vivere una condizione di fragilità ossea, ma si tratta soprattutto di convivere con condizioni psicologiche di fragilità, dove si passa dal vivere una vita normale, quotidiana, ricca di movimento, di esperienze motorie, a una vita di limitazioni. Questo è il principale fattore che va a incidere sulla nostra vita. Ricordiamoci che oltre che recuperare massa, minerale e ossea, noi dobbiamo recuperare pezzi di vita, pezzi di movimento. Combattere l'osteoporosi significa darsi prova che non si è fragile come ci hanno descritto e possiamo ancora fare tantissimo. Un saluto. Medical Fitness